Siamo molto contenti e orgogliosi di iniziare questo percorso che sappiamo bene che sarà sicuramente difficile, ma che comunque alla fine ci dà tanta gioia, tanta voglia di cominciare, di partecipare a questo grande campionato. Non mi ricordo una Lega Pro o Serie C, chiamiamola come vogliamo, di questo livello, quindi per noi comunque poterci partecipare è una grande gioia. Sarebbe bello partire bene, credo che sia un po' il volere di tutti, quindi la prima ha sempre un po' un sapore particolare. Poi noi tra l'altro la giochiamo a Venezia contro la squadra insieme al Parma, probabilmente la squadra favorita per la vittoria finale, quindi un bel banco di prova. È una squadra forte, con giocatori forti, giocatori di spessore, di categoria anche superiore, una squadra molto fisica, che gioca a calcio, quindi sappiamo benissimo quello che ci aspetta. Mi piacerebbe vedere una squadra che va lì e se la gioca con la propria identità, al di là di quello che può essere il risultato finale, che esca quindi dal campo dopo essersi giocata la partita con tutte le armi che ha.